Ciao, sono Irma Schvegler, titolare di Old Fashion Sartoria. Stiamo per andare qualche settimana in vacanze, per ricaricare le batterie e per essere pronti con nuove idee per l'autunno. Qualche cosa abbiamo già cominciato a preparare. Questo è un gilet con dei lever a sei bottoni con le tasche con la patina. È un 100% lana tartan. A questo gilet viene abbinato un pantalone in velluto colore verde bottiglia. È ancora da finire, però deve partire prima della chiusura perché è stato ordinato da un nostro cliente via Whatsapp. Queste sono le nostre proposte di tartan. Dai colori più classici grigio con la rica rossa, a quelli con un po' di viola, ai verdi e ai rossi e blu. Li potete trovare presto sul nostro sito online per ordinare il vostro gilet. Per gli abbinamenti del pantalone contattateci via Whatsapp e vi mandiamo delle proposte. Trovi tutte le informazioni nella descrizione qui sotto. Seguici su Facebook, Instagram, Youtube e LinkedIn. A presto!